dichiarazioni forti forte eh? l'acienda non sta buona, non c'è l'inveriore eh? no no chi è che ne è buona? l'acienda è di qua, di là un nome? un cappello? no cappella, questa è la mia stessa tornetta e cappella? no no un martello di cenere, tu non ci hai sopra ora si sta comportando, va giù ah bucappella è un amico ma ti ne pari a chiudere di stile? Vabbè oggi è la sfera di sole Il solito pronostico da sbagliare Che facciamo oggi? Ah 3 e 2 Ah 3 e 2 Scusi 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 Vabbè Vado e vuoi? Dai eh L'euro Vado Ok